è bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità se siete di stomaco debole allora non vi consiglio di proseguire e se le tematiche forti non fanno per voi allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa eva grimbell vi faccia di sua proprietà experiment 6735 di hukis capitolo 29 azzurra e will fecero eruzione nella camera di dave chiudendosi con attenzione la porta alle spalle will arricciò il naso per la notevole confusione e il letto disfatto dove il ragazzo era comodamente seduto a giocherellare con le dita quando alzò gli occhi sui due si lasciò andare in un sospiro rumoroso ancora tu ragazzino chiese serrando la mascella e alzandosi dal letto ti ho già detto che devi lasciarmi in pace will alzò le spalle mi dispiace ho sbagliato approccio ma è davvero fondamentale che tu mi ascolti sentenziò tenendo una mano dietro la schiena con l'antidoto ti ha importunata chiese dave guardando azzura che subito scosse vigorosamente la testa ancora troppo scombussolata dalla serie di informazioni che le erano state fornite ecco come dire la grimbell vi ha iniettato uno dei codici che vi ha fatto perdere la memoria facendovi così dimenticare di lux e del villennium e qui entro in gioco io pianista solitario che va in soccorso della dolce donzella offrendo il proprio aiuto disse accennando in sorriso e mostrando la mano con la siringa dave scattò subito all'indietro un'azione ormai automatica ogni volta che vedeva quel laggeggio terribile apparire le sue preoccupazioni poi si rivolsero ad azzura azzura lontana di da quello psicopatico quasi le urlò intimandole di avvicinarsi a lui il ragazzo dai capelli color pece fece una smorfia sentirsi apostrofato in quel modo lo metteva a disagio e quasi gli venne voglia di andare via e di mandare tutto a monte del resto lui non ci guadagnava nulla o almeno solo la libertà ma anche quella sarebbe finita una volta uscito da redwood il vero piano di william era quello di farla finita una volta per tutte avrebbe versato le sue ultime lacrime per il suo unico amico e avrebbe respirato per l'ultima volta il resto sarebbe stato solo bui e cenere dave devi ascoltarlo disse azzura portando le mani in avanti cercando di farlo calmare la schiena di lui adesso sfiorava il bordo della finestra ma sembrava non esserne cosciente devi fidarti continuò mettendosi davanti a lui poggiò le mani sulle sue guance e gli sorrise appena riusciva a sentire i battiti accelerati di dave mentre i suoi occhi viaggiavano da lei a will in cerca di una buona ragione per non andarsene da quel luogo che improvvisamente si fece troppo piccolo per tutti e tre poi improvvisamente le labbra combaciarono con quelle di azzura un bacio casto che però gli fece provare emozioni familiari e che riempì il vuoto di quegli ultimi giorni quando la ragazza si allontanò dave la guardò con occhi diversi complici sicuri e annui in direzione di will che non se lo fece ripetere e gli iniettò la cura william strinse le labbra in una linea dura osservando il corpo tremante di dave le vene del collo si sporsero le mani strinsero con forza i capelli mentre in gola gli moriva un urlo di dolore azzura strinse i pugni cercando di non far vincere la sua parte vulnerabile dave doveva ricordare ma doveva riuscire da solo le sue gambe cedettero si accasciò a terra continuando a tenere le mani tra i capelli gli occhi erano chiusi così tanto che gli sembrava impossibile aprirli ma più i minuti passavano più riusciva a focalizzare immagini e ricordi che in quei giorni aveva stupidamente rimosso stava ricordando tutto ciò che più la spaventava del millennio ma era il silenzio credeva che tutta quella quiete l'avrebbe fatta rilassare e che l'avrebbe cullata rispetto alle urla e i soliti frastuoni che caratterizzavano redwood eppure non era stato così nemmeno adesso che al suo fianco aveva henry taciturno e pensieroso come i primi tempi in cui lo aveva conosciuto con l'unica differenza che nel suo viso c'era dell'umanità si trovavano nella sala di intrattenimento entrambi seduti ai piedi nel pianoforte henry si guardava la punta delle scarpe per qualche strana ragione non aveva nemmeno il coraggio di guardarla più di due minuti e il pensiero di doverla lasciare da sola in quel posto gli metteva i brividi andiamocene via adesso non sopporto l'idea di doverti lasciare qui da sola mormorò lux sospirò rumorosamente passando una mano in viso cercando di far sparire il broncio dal viso non funziona così henry e poi non possiamo andarcene fino a quando azzurra e dave non ricorderanno in più ho promesso a will che sarebbe venuto con noi gli spiegò velocemente la sua voce si perdeva in quella stanza ampia facendola sembrare più acuta e quasi irritante ti fidi così tanto di lui da voler rapportare con noi chiese henry corrugando la fronte il suo disappunto era palpabile anche a metri di distanza non riusciva a capire come lux potessi fidarsi così facilmente di una persona quando lui ancora tendeva a non fidarsi nemmeno di se stesso la ragazza a noi semplicemente fece per formulare una frase quando un rumore la fece scattare in piedi la porta principale si era aperta e chiusa in un tonfo assordante henry fece lo stesso la sua mano prese subito la sua un'azione automatica che lo fece quasi arrossire lux lo guardò come per dirgli che era stato uno shock non andarsene prima resta qui e non farti vedere sussurrò henry distorse lo sguardo ammettendo senza parlare che non l'avrebbe fatto allora lux gli poggiò una mano sulla guancia costringendolo a guardarla per nessuna ragione puntualizzò henry sentì un enorme peso allo stomaco soffocarlo un dolore lancinante che difficilmente sarebbe andato via e quando lux gli lasciò la mano per sgattagliolare via dalla stanza e raggiungere la persona che era appena entrata era certo che quel dolore non l'avrebbe abbandonato fino a quando lei non sarebbe tornata da lui lux percorse a passi svelti il corridoio e quando si trovò nella hall illuminata dalla solita luce abbagliante si trovò davanti alla figura imponente di josh che la scrutava con fare autoritario e schivo gli occhi chiari dell'uomo a contatto con i suoi le mettevano i brividi così freddi e privi di umanità che quasi quelle di la green bell sembravano più vivi del resto nello sguardo di eva c'era del particolare bastava un solo sguardo per capire che la donna aveva una passione e degli obiettivi e che credeva soprattutto in ciò che faceva fu proprio questo a destare la sua attenzione gli occhi della green bell non erano lì a fissarla come stava facendo josh si sporse guardando oltre la figura dell'uomo ma della dottoressa nemmeno l'ombra perché non c'è la dottoressa chiese cercando di nascondere il tremore che aveva in voce la paura che josh potesse scoprire erri e fargli del male o peggio somministrargli qualche sostanza la divorava il corpo minuto tremava secondo dopo secondo ma josh sembra non accorgersene o almeno non diede peso la cosa non verrà oggi borbottò facendolo un cenno con la testa di seguirlo percorsero il corridoio opposto scortando la ragazza in laboratorio lux si accigliò non è venuta nemmeno ieri constatò lei entrando nel laboratorio senza fare troppi complimenti probabilmente se erri non fosse stato lì si sarebbe ribellata josh sbuffò rumorosamente guardando con disappunto la ragazzina la dottoressa green bell ha di meglio da fare che passare le sue giornate con uno scarto umano come te le disse con voce pacata priva di rimorso o qualsiasi altro sentimento che avrebbe potuto far nascere il lux della pietà quanto a me ho molto tempo libero devo impiegarlo in qualcosa di produttivo e tu sei la distrazione giusta sussurrò la ragazza pensò che probabilmente quell'ultima frase dovesse essere solamente una riflessione dell'infermiere detta ad alta voce josh le sistemò le cinghie non appena lux si sedette si regò verso lo scaffale dove riponeva i suoi amati codici e lei non poteva che mentalmente will per aver ripulito tutto dentro di lei la paura era svanita josh era troppo concentrato sul suo lavoro per poter accorgersi della presenza di qualcun altro eppure per luxia era così evidente convinta che anche essendo all'oscuro della presenza di harry lo avrebbe capito all'istante nell'aria si sentiva il suo dolce profumo simile a qualcosa che aveva a che fare con il sandalo e la cannella quasi le sembrava di riuscire a sentire il suo respiro irregolare e i battiti del cuore che acceleravano i suoi passi lenti e attenti ed effettivamente harry stava camminando verso il laboratorio con occhi attenti e mani tremanti le sue gambe si muovono velocemente ma con una lentezza tale da impedire a se stesso di causare frastuoni che lo avrebbero messo nei guai si inumidì le labbra come per alleviare la tensione che lo stava divorando la sua schiena toccò il muro non appena si ritrovò accanto alla porta del laboratorio portò una mano a coprirsi raso e bocca come per nascondere il suo respiro affannato ma luxia lo sentiva eccome lo sentiva come se fosse vicino a lei distrazione chiese lux la sua attenzione fu richiamata poco dopo dalle parole precedenti dell'uomo la dettoressa grinbell non voleva che andassimo avanti con gli esperimenti fino al suo ritorno ma penso che sia meglio per te non perdere il passo potresti indebolirti e magari il tuo metabolismo potrebbe rifiutare le sostanze disse armeggiando con la siringa ma tu sei una brava bambina disse avvicinandosi a lei e spostandole una ciocca di capelli dal viso un sorriso gli storpiò le labbra sottili ti comporterei bene non è così quel tocco così inappropriato le fece venire la nausea voltò il viso dall'altra parte dando così spazio all'infermiere per iniettare la sostanza nel collo il corpo di lux rimase paralizzato gli occhi spalancati e i muscoli del viso tesi il cuore aveva smesso di battere e il colore latto della sua pelle sembrava ancora più chiaro josh si allontano di qualche passo no sussurrò facendo cadere a terra la siringa con le mani tremanti slacciò le cinghie che tenevano stretta la ragazza e prese a scuotere la ripetutamente per le spalle tu non puoi morire non puoi morire sei immune a tutto questo continuava a urlarle contro ma gli occhi scuri di lux lo fissavano senza alcuna vitalità quelle parole bastarono per far scattare harry si ritrovò nella stanza e il cuore sembra cedere nel vedere quella scena terrificante il corpo esile di luxia tenuto stretto tra le mani di un uomo privo di scrupoli il corpo senza anima di luxia per colpa di quest'ultimo josh lasciò andare la ragazza quando sentì dei passi alle sue spalle si voltò per poi ritrovarsi faccia a faccia con l'esperimento 6735 harry sentiva qualcosa all'interno di sé bruciare un fuoco capace di uccidere se stesso e chi gli stava intorno senza nemmeno rendersene conto lacrime amare iniziarono a regargli le guance cosa hai fatto chiese il ragazzo la voce sembrò spezzarsi quasi morigli in gola josh non era mai stato così terrorizzato in vita sua harry sembrava sotto l'effetto di qualche codice ma questa volta gli effetti si erano moltiplicati e nessuno avrebbe potuto risolvere la situazione nemmeno l'unica ancora di salvezza del ragazzo che adesso giaceva in silenzio l'infermiera aprì la bocca ma questa si richiusa non appena il pugno del riccio si scontrò contro il suo viso josh perse l'equilibrio e finì per cadere a terra ma harry era deciso a non dargli pace un ringhio gli fuoriuscì dalle labbra quando si mise su di lui e lo colpì una seconda volta e un'altra ancora sulle nocche aveva il sangue dell'uomo ma non gli importava affatto il cuore era afflitto da mille lame che lo trafiggevano ad ogni respiro la testa era pesante focalizzata sulla sua luxia ormai troppo lontana per sentirlo e lui doveva darle giustizia doveva uccidere josh per lei l'ennesimo pugno e l'ennesima inutile supplica dell'uomo josh boccheggiava raccimolando la quantità massima di ossigeno che gli consentiva di sopravvivere non voleva uccidere lux tutt'altro era fermamente convinto che quel veleno che la dottoressa gli aveva proibito di usare su di lei non le avrebbe fatto nulla harry urlava per via di un dolore che non riusciva a controllare un dolore più grande di lui e che non riusciva a sopportare le spalle del ragazzo furono avvolte da quelle braccia il respiro caldo di lux gli si infranse sulla pelle lux non era morta o almeno non lo era più come gli altri veleni assorbiti nelle settimane precedenti l'effetto era svanito e i suoi polmoni avevano ripreso a prendere aria i suoi occhi si erano imbattuti su harry che pestava sangue l'infermiere ed era rimasta per più di due minuti a supplicarlo di fermarsi ma la sua voce era troppo debole per infrangere quella bolla che si era creata attorno al riccio ma con quell'abbraccio le barriere si erano sciolte ed harry si era lasciato cadere a terra lontano dal corpo debole morente di josh la mano di harry si posò sul braccio di lux e il suo pianto non si era fermato la ragazza credeva di poter svenire da un momento all'altro ma si fece forza per lui cercò con tutte le sue forze di non cadere in un sonno profondo stringendo contro il suo petto il corpo del ragazzo tormentato dall'idea di averla persa sono pazzo borbottrò tra i singhiozzi sono pazzo continuò a ripetere mentre stringeva con maggior forza il braccio di lux tu eri morta sussurrò appena voltando il viso e guardandola io io non volevo ucciderlo lux si accarezzò ai capelli cercando di farlo calmare va tutto bene sussurrò ma niente andava bene